Finalmente, l'ospite straniero anche questa sera, l'ottavo concorrente! Venga, venga! Doppia valletta, hai visto che lusso, due! Presentiamo questo giovane! Allora, abbiamo Ihor Kalinovs, di Ternobil. Sì, Ternobil, Ucraina! Abbiamo l'Ucraina! Bene! Straniero un bel niente, perché ormai l'Italia è come se fosse la sua terra. Lui si era sposato con una Ucraina in Ucraina, è venuto a visitare il nostro paese, diciamo, in viaggio di nozze, e si è innamorato dell'Italia. E allora, benvenuto tra di noi! Benvenuto! Grazie! La sua grande passione, anche quando era al suo paese, era il canto, il bel canto. Hai studiato un po'? In scuola da noi si fanno lezioni di musica. E sono lezioni serie, chiaramente. Sì, si faceva più accento. Sì. E quindi sono appassionato di musica e di canto in particolare. Di canto in particolare. Qual è il brano che hai scelto questa sera? Stasera faccio Aria Figaro, dall'opera Nozze di Figaro. Non più andrai farfallone amoroso. Esatto. Non ti emozionare perché farai una bellissima figura. Che c'è? Va bene qua? Sì? Buono, si capisce che vogliono. Comunque va bene. Il microfono è quello. Il leggio è questo. Chi dirige, maestro? Angelo Nigro. Angelo Nigro! Vengalo, grazie. Complimenti. Grazie. Complimenti. È famoso anche in Ucraina, sa? Molto. Molto. Scoperta. Ci faccia fare bella figura, Angelo Nigro. Andiamo, va. Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle torbando riposo, narcisento adoncino d'amor. Nelle belle torbando riposo, narcisento adoncino d'amor, frodo e guerrieri poi farbacco, brano, stacchi, stretto, stacco, scioppa in spalla, sciabba al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran torbante. Molto amore, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per balloni, con le nevi soglioni al concerto di tromboni. di bombarde, di cannoni, che le pade tutti toni, all'orecchio fanno di schiavo. Non piavrai quei pennacchini, non piavrai quel cappello, non piavrai quella chioma. Non piavrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle torbando riposo, narcisento adoncino d'amor. Delle belle torbando riposo, narcisento adoncino d'amor. che rovina la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar. Solo la corrida vi porta la cultura in prima serata. Nessuno lo fa! E lasciatemi spendere una parola. Ora vanno molto di moda questi talent show, dove la gente vuole subito sfondare e diventare famosa. questo, fa il falegname, viene dall'Ucraina e canta come uno che lo fa di lavoro. Dovete prendere esempio da questi personaggi qua. Bravo! Complimenti! Complimenti a nome anche dell'orchestra che ti ha battuto le mani. Vuoi salutare qualcuno? Tanto sei in finale, quindi ci vediamo anche dopo. Sì, voglio dare un grande bacio a mia famiglia, Marco, Ivan e mia moglie Natalia. Saluti ai miei tantissimi amici che adesso mi stanno guardando, anche in Ucraina. I miei parenti, privati, tutti quelli che mi conoscono, un grande saluto. Bravo, bravo, bene, bravo. Ci vediamo dopo. Bravo, grazie, grazie. Che soddisfazione! Che soddisfazione!